Sceneggiatore sia per il cinema che per il teatro, in questo caso in studio per presentare questo spettacolo che debutta proprio quest'oggi, sarà fino al 16 di febbraio, uno spettacolo che vedrà protagonista Luca De Bey intitolato Il Grande Mago. Luca De Bey è venuto tra l'altro qualche giorno fa qui nei nostri studi e ci aveva già in qualche modo anticipato e raccontato questo suo... possiamo dire ritornare sulle scene in veste d'attore, visto che Luca De Bey raramente si concede. Partiamo da questo, come l'hai convinto? Ma in realtà Luca è venuto a vedere una lettura dello spettacolo che fece Isabella Ferrari al Teatro Belli e uscì dalla lettura dicendomi che era stato toccato molto fortemente da questa storia e questa storia io l'avevo raccolta dalla realtà, era una storia che avevo conosciuto e sulla quale avevo cercato di fare un documentario, quindi avevo... ero stato a contatto con la persona che poi è il protagonista di questa storia, Andrea e avevo cercato di raccontare in quel modo all'inizio quella storia, poi per varie ragioni che a volte accadono con i documentari non c'ero riuscito. Era una storia molto importante che sentivo in qualche modo che mi era stata consegnata dal destino e che in qualche misura dovevo trovare una forma e quindi ci ho provato con il teatro. E quando Luca ha sentito questa storia mi ha detto che lui era pronto a tornare dopo molti anni sulle scene se avessimo voluto costruire insieme questo spettacolo. Grazie al produttore Franco Clavari e al regista Giuseppe Marini abbiamo realizzato questo spettacolo. Raccontiamo un po' chi è Andrea, il protagonista di questa vicenda portato appunto sul palco da Luca De Bei. Andrea è una persona che cerca di trovare una propria autenticità. È una persona nata in un corpo da maschio, infatti si chiama Andrea, ma che si sente una femmina. Però ama le donne, ma le ama come le potrebbe amare una femmina. Per cui ha dei rapporti, ha delle relazioni, ha delle fidanzate, ma ad un certo punto tutti questi rapporti si rompono, si incrinano. Fino a quando Andrea non incontra una persona che sembra disponibile a incontrarlo per quello che è, quindi a comprendere anche questo suo bisogno di transizione. Con questa persona raramente fanno l'amore da maschio a femmina, perché c'è una reazione fisica, violenta, fortissima, una repulsione da parte di Andrea nell'agire come un maschio. E in una di queste occasioni la sua compagna rimane incinta. Ed accade proprio quando Andrea... Una paternità inaspettata. Sì, anche se non so se si debba chiamare paternità in realtà, nel senso che la cosa curiosa è che quasi non c'è un nome per dire quella genitorialità. Andrea in quel momento sta per cominciare una transizione, ha deciso di diventare anagraficamente una donna e di agire sul proprio corpo per correggere quello che ritiene essere un errore di Dio. Del grande mago, che è il riferimento del titolo. E proprio mentre compie questa transizione sta aspettando un figlio di cui non sa se definirsi padre, visto che in qualche modo essere un padre, un uomo è una cosa che non desidera, né certo può essere la madre, visto che la madre già ce l'ha. È uno spettacolo che affronta questo passaggio, questa transizione di Andrea, considerando sia il suo aspetto interiore, quindi anche la solitudine con la quale vive questo passaggio, ma anche quelle che sono un po' le reazioni delle persone che ruotano intorno a lui. Sì, perché Andrea poi si trova a vivere dentro una famiglia che non è pronta ad ascoltarlo, non è pronta a comprendere questa sua attitudine, questo suo bisogno di intraprendere un viaggio così impegnativo, così difficile, così rischioso. E quindi Andrea, per diventare Aurora, deve mettere a rischio tutti gli affetti, in sostanza, fino all'affetto che a un certo punto diventa il più importante per lui, che è quello di suo figlio, in quanto questa compagna che sembrava essere in grado di ascoltarlo, di comprenderlo, ad un certo punto non ce la fa più, si rivolge al Tribunale dei Minori, chiede al Tribunale dei Minori che cosa debba fare, e il Tribunale dei Minori, completamente impreparato, la storia è ambientata, tra l'altro, quasi due decenni fa, il Tribunale dei Minori... Siamo negli anni 90, quindi... Cautelativamente decide di impedire qualunque tipo di rapporto tra questo genitore e il figlio, fino all'età di 12 anni, quando il figlio avrà voce in capitolo. Quindi comincia un periodo straziante, in cui Andrea stesso, che è pieno di dubbi rispetto a quello che sta facendo, ma convintissimo dell'affetto che ha per il figlio, si vede, come dire, sottratto quello che è il suo principale affetto, il suo principale amore. Sono passati 20 anni, abbiamo fatto dei passi avanti da un punto di vista giurisdizionale, in questo senso, oppure siamo ancora fermi a quegli anni lì? Ma io non sono un politico, ma credo che a sentire da quello che si dice, mi sembra che i problemi continuino a permanere, e ci sia anche, come dire, un atteggiamento estremamente ideologico rispetto a questo. Quello che mi è piaciuto del rapporto tra questo spettacolo e gli spettatori, è stato proprio che la comunicazione non è avvenuta sul piano ideologico. Io ho visto persone anche che un po' conoscevo al di fuori, no? E che magari avevano un atteggiamento anche un po' conservativo, no? Un po' chiuso, no? Arrivare a questa persona come se arriva a una persona, no? Senza le classificazioni, senza le etichette, no? Provando a comprendere, come dire, la necessità di quel percorso, l'inesorabilità che io ho riscontrato, no? Parlando con quella persona e che ho visto essere l'inizio e la forza di quel percorso. Un coinvolgimento emotivo che immaginiamo ti avrà riguardato molto da vicino la prima volta che sei venuto a conoscenza di questa vicenda, visto che hai detto hai lavorato a lungo per cercare di trasformare tutto questo in un documentario che poi è diventato invece uno spettacolo teatrale. Tu la vicenda di Andrea, se si chiama così nella sua vita reale, come l'hai conosciuta? Non si chiama così nella vita reale, io l'ho conosciuta un po' per caso ad un certo punto mentre stavo occupandomi di documentare delle relazioni fra esseri umani e quando l'ho incontrata, prima di incontrarla ho notato che in fondo anch'io avevo una specie di pregiudizio, no? Tu l'hai incontrata nel momento in cui la transizione era già avvenuta? Sì, era venuta ed era in quella fase estremamente dolorosa in cui non poteva, le era impedito di frequentare il figlio. E quello che io ho trovato nell'incontro era davvero questa inesorabilità, cioè il fatto che non c'era nulla di questo percorso rischiosissimo, coraggiosissimo, pieno di dolore, che potesse essere evitato. Cioè in qualche modo era come se, anche se questo costo era enorme, no? Perché voleva dire andare contro una famiglia impreparata, andare contro la propria compagna, andare contro il tribunale dei minori. Nonostante tutto questo era l'unica cosa possibile per non dover vivere con una maschera, per non dover vivere in un involucro che era sbagliato. Certo, che avrebbe compromesso proprio la salute mentale anche della persona. Sì, e che avrebbe costretto ad avere tutti i rapporti falsati da questo. Quindi un atto vero e proprio di coraggio. In realtà l'elemento della solitudine è un elemento che emerge molto nello spettacolo. Il suo percorso, la sua transizione è avvenuta poi in una solitudine vera e propria in cui ha fatto i conti con se stessa e con la propria solitudine. Assolutamente, sia sul piano affettivo, sia sul piano del lavoro. Ha perso il posto di lavoro. Ha perso il posto di lavoro e questa è una situazione che continua a essere molto frequente, molto grave. Una transa, di solito, molti problemi ad avere o conservare il proprio lavoro. E quindi, come dire, il rischio è stato davvero assoluto. Il rischio è stato su tutte le cose che riguardavano la propria vita. La vicenda di Andrea da Luca De Begum è portata sul palco da un punto di vista, diciamo, scenografico e anche attoriale. Beh, la scelta di Giuseppe Marini è stata di rendere il più nuda possibile la scena. Quindi tutto è davvero sulle spalle di Luca e però è scattato qualcosa di un po' incredibile, secondo me, tra il personaggio di Andrea Aurora e l'interprete Luca De Begum. C'è qualcosa che si sente, c'è qualcosa di vero che lui è riuscito a trovare in un'intersezione, nel dialogo con questo personaggio. Ed è qualcosa che dopo i primi tre minuti di spettacolo qualunque spettatore sente. Infatti c'è di solito un pellegrinaggio commosso, è un po' incredibile a vedersi, nel camerino. E le frasi che vengono dette, oltre a quelle naturalmente che hanno a che fare con il riconoscimento della professionalità, della bravura, eccetera, ma ci sono anche frasi, come dire, di altro genere proprio. Mi raccontava che ancora l'altra sera stava a Firenze o a Rieti e qualcuno è andato e gli ha detto ma io vorrei conoscere Aurora, vorrei passare del tempo con Aurora. Cioè era come se davvero lui fosse diventato un interprete nel senso di assumere su di sé una personalità e in quell'ora è qualcosa di spettacolo farla esistere, farla essere lì davanti al pubblico. Presente e vicino al pubblico. Vi ricordiamo Il Grande Mago, fino al 16 di febbraio, spettacolo scritto da Vittorio Moroni con Luca De Beppe e la regia di Giuseppe Marini. Noi ringraziamo Vittorio per essere stato con noi e ci rivediamo presto a Radio Città Futura. Grazie, ciao.